Si trovano ad Ostuni, in una zona straordinaria della Puglia e hanno fatto dell'innovazione, della professionalità e dello stile il loro vanto perché attraverso queste componenti si delinea l'immagine dell'azienda. C'è un'innovazione nello studio di nuove forme espressive, anche criteri e tecniche metodologiche di lavoro e anche nella capacità di accogliere quelle che poi sono le novità che arrivano dal mercato, i famosi input dell'alta moda. Una professionalità garantita da uno staff di professionisti che dedicano il loro tempo e le loro competenze alle spose ma anche agli sposi. Anche se stasera vedrete soltanto la sposa loro hanno anche una grande attenzione per l'uomo per cui diventando in questo modo assolutamente un riferimento sia per lei che per lui. Uno stile sofisticato ed elegante, allo stesso tempo disinvolto e come si suol dire mai troppo studiato. È arrivato il momento adesso di lasciare la passarella a queste creazioni. L'ultimo grande applauso lo vorrei per tutte le persone che lavorano nel backstage e che rendono possibile questi eventi, poi avrò modo di nominarli ma l'applauso più grande adesso va per Enrico Maria. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! No, I don't really care Be nice and sacrifice Play nice And have one for once that you love And have lots for once that you love Na, 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 na Na, 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 na This beautiful life, he says To the woman shaking her head Judge love and sacrifice And have lots for the ones you don't care And she says write it all down Cause I don't really care Just write it all down Cause I don't really care Just write it all down Cause I don't really care I say I don't really care I say I don't really care Grazie a tutti. Grazie a tutti.